Io sono uno, per sincerità ho detto, io condannio il sistema che voglio abbraccio, a chi io voglio tenere un prestigio. E' un forte indice di scopo, non me ne frega un tavolo della gente o del mondo, ecco l'unità. Dovrei dire che mi dispiace, ma non lo fai, perché non lo fai, ma con chi ti amo di me, mi riferisco, siete solo ognuno, voi mi assalite come un branco di lunghi affamati perché non sopportate la vostra realtà e il vostro modo di essere, se il mondo è un posto veramente fregato, sì il tanto e le condizioni sommergerà, sì la guerra sta arrivando, il mondo è andato al diavolo, voi siete tutti fregati, è tutto sotto sopra, ma a voi sta bene così, no? Siete affascinati dai dettagli sanguinosi, siete tonalizzati dalle vostre paure, voi godete e le alzioni, gli incidenti stradali, le malattie incuranti, la sofferenza a voi che voglio piacere, è questa la mia funzione, no? Io sono qui a conturvi per mano attraverso la sua oscura delle vostre navi, dei vostri uomini, delle vostre umiliazioni, io sono un servizio pubblico, le vostre truppe, le vostre tragedie sono il vostro spettacolo. Vi dico quello che siete, devo farlo, non ho altra scena! Tenetevi pure la vostra stupita, io non la voglio! Non voglio sentirvi più, non chiamatevi, portate via! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!